Credo che finalmente pare che stiamo arrivando a esserci in un qualche modo coordinate, noi attivisti, il comune che rappresenta le istituzioni, i pubblicitari, l'UPA, se si inizia a lavorare insieme, come dicevo, l'Italia che è partita molto svantaggiata sul tema delle immagini offensive potrebbe invece diventare quasi un capofila verso il resto d'Europa. Quando è uscito il corpo delle donne che ha avuto questo merito di innalzare il livello di consapevolezza è cambiato molto, ma come dicevo nella mia presentazione, molto per merito delle giovanissime, dei giovanissimi, gli attivisti in onima, le attiviste in onima in rete. È cambiato perché le immagini offensive delle affissioni vengono ritirate per le proteste civili portate avanti dagli attivisti in rete che denunciano lo IAP e quello che non è cambiato però è aumentata la sensibilità, è aumentata la consapevolezza, quindi anche dove non è cambiato secondo me a breve potrebbe cambiare.